buongiorno oggi mi trovo ad ascona e vi sto per mostrare un fantastico appartamento di quattro locali e mezzo questa è l'entrata quello che potete vedere già il soggiorno sono al terzo piano in una palazzina di tre piani totali con nove appartamenti mi trovo vicino a tutte le necessità abbiamo la manor proprio qui vicino al lago ci si arriva con 10 15 minuti a piedi scuole asili sono a 500 metri quello che vi sto per mostrare è la vista dall'appartamento quindi questo è il soggiorno torniamo verso l'entrata che sulla mia destra e subito all'entrata alla mia destra dall'entrata diamo la prima camera da letto questa è una camera singola attualmente utilizzata come ufficio continuiamo ripeto che abbiamo il soggiorno aperto e sulla destra abbiamo la cucina cucina con uscita sul balcone completa di forno frigorifero e congelatore lavastoviglie lavandino cappa e vetro ceramica dalla cucina usciamo sul balcone eccoci qui questo è un balcone che è condiviso con una camera da letto questo è tutto il giardino condominiale e questa è la vista vi porto ora sul balcone quindi sul terrazzo principale questo appartamento ha due bellissimi balcone eccoci qui questo è un bel balcone spazioso con tenda parasole elettrica e questa è la pista rientriamo ed ora andiamo a vedere la zona notte quindi di qui accediamo alla prima camera da letto singola sempre con uscita sul balcone condiviso con la cucina accanto abbiamo il primo bagno con box doccia vc lavandino e la lavanderia è direttamente in casa quindi c'è la possibilità di installare una propria lavatrice eventualmente anche un'asciugatrice continuiamo ad accediamo ora la camera matrimoniale con il bagno direttamente in camera questa volta il bagno è fornito di una vasca da bagno lavandino specchiera vc e bidet questa è la camera matrimoniale quindi spaziosa sempre con uscita sul balcone condiviso questa volta con il soggiorno con questo appartamento ci sono due posti auto in auto rimessa c'è anche una bella spaziosa cantina e si accetta il deposito cauzionale tramite assicurazione se vi è piaciuto questo appartamento io vi invito a chiamarci per venirlo a vedere dal vivo ti affitto ti affitto